Perché devo metterci io, andare a giocare a Pisa, se loro non sono capaci? La Galarese, per essenziale, fa solo una chance che il signor Prefetto, che io ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere, siccome è uno che si vede che ha guadagnato i gradi sul campo di battaglia, non nelle stanze della politica, e ha capito il problema, si è tuffato nel problema. Se non mette la mano a lui, a questo problema, il signor Prefetto, li prende per le palle, li stringe e li porta di avanti le loro responsabilità. La Galarese non gioca più a calcio, però io faccio una cosa, io finché avrò forza, mi vado a incatenare dentro al comune e loro devono andare a casa, perché loro vogliono la battaglia con me, loro hanno trovato un pazzo, io non sono un capricchioso, io sono un pazzo, perché quando mi toccano la mia passione, quando mi toccano i miei valori, sono pronto a morire, porca vergola troia, mi fanno un cazzo a me quei grillini lì, la Galarese è dei canarini, i canarini, Baldini fra un anno o due, non c'è più, la Galarese c'è ancora, è dei canarini di chi ha passione, avete capito di chi è la canarista? Però non mi devono rompere i coglioni a me, perché io non mi arrendo, e lo ripeto, lo ripeto, sfruttiamo il vicino occhio, il signor Prefetto, che se non prende mano a lui una situazione, la Galarese non c'è più.